Che cosa ti senti proprio di aver sbagliato all'inizio e che cosa non faresti più appunto? Troppa superficialità nell'allenamento forse, cioè più che altro non davo la giusta attenzione a quelli che erano gli esercizi, in particolare le attivazioni degli esercizi stessi e al motivo per il quale appunto si inseriscono determinati esercizi o progressioni all'interno della scheda, perché sì io mi facevo delle schede però erano esercizi diciamo copiati dagli internet da Avito su YouTube che insieme non avevano molto senso. Vuol dire che il mio percorso è cambiato sotto tutti i punti di vista. Ok, intanto partendo e elencando le performance che ho appunto migliorato sicuramente una full clutch devo dire abbastanza solida però ho anche maggiore consapevolezza in fronte, quindi ho preso una decina di secondi più in partenza perché la skill è la tua faccia più fatica. Poi ho preso l'op, ho migliorato tantissimo la spinta verticale, quindi veramente il ventilato di urlone e tutto ciò che ne riguarda. Per quanto riguarda invece ciò che ho imparato da questo percorso è sicuramente che ho avvisato una maggiore consapevolezza dell'allenamento. Quando mi cadendo e faccio l'esercizio so a cosa devo pensare, so su cosa devo concentrare, cose che a inizio trascuravo decisamente. Grazie. Grazie.